Cecilia Cica de Notallargai, buona intervista Ecco il prossimo Pensatemi con il peso. Ah, cazzo, è tutto peso. Anzi, è molto, molto peso. Chefs, mi arricchete. Mi tengo bisogno. Chefs con la pangia, Chefs con la domomia, Chefs con la sarpia, e Chefs pure con la maria pia. Allora, Riccardo! Ah, scoppa, faccio, faccio, se solo io e te. Eh, ti gatti? Eh, hai tosi comprendo. Ehi, ma è tala per tasta. Da oggi, anche al gusto di tasta, babbara, tutto ino, e ci, 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 ci faccio. Oh! Oh! Resta di Sanareni? Dopo me contai. Anneta mia. Dopo regalare un'ogliere. E' troppo pesata. Pesata. E' il prossimo mese. 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 E' il prossimo. E' il prossimo mese. E' il prossimo mese. E' un nuovo mese. E' un po' di chi anche abbiare il bopper. E' il mio che ti ha regalato. E' il prossimo mese. Se si è ritratto, non ci si va con te. E' un po' di chiudo. E' dal prossimo mese. E' il mio che avevo il bopper non ciò. ma non è proprio riuscito, se non ci crediamo che tu dovresti. E niente, ma io si dà un anno, e mi dà una gattata! Ah, ma io sono così, ma te cosa stai per bobbè? E' una marca di pannoloni, si, e cosa fai? E' un annesto strano! Sono due scelte, sapevo? E mi dò un'intesa per bobbè, mi dice! Ehi, ma ti ti spiego cosa stai? Dove sei? Non ti spiego cosa stai per bobbè? Ehi! Oh, non ti dà che ti devo subire, no? Ehi, non mi ama! Che sta? Ah! 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 Grazie a tutti Ma secondo te è maschio femmina questa pianta? Secondo me è maschio Secondo me invece è femmina Lo chiediamo a questo signore Scusi signore Ma secondo lei questa pianta è maschio o femmina? Eh senza papiri e questo è maschio eh Visto? E per me è maschio? Con due scalloni sa sutta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti